Piacere, mi chiamo Cagna Francesca, ho 14 anni e abito a Ormea in un paesino vicino a Garesseo, provincia di Cuneo. La seconda volta su un Duotempi e da Gran Premio. Dimmi le tue impressioni. È veramente stupendo perché non pensavo era veramente tanto maneggevole, era molto facile da guidare. Certo bisognava subito un po' prenderci la mano per il semplice fatto che se va un po' giù di giri è un po' un problema, ma negli ultimi turni abbiamo migliorato tantissimo. Eh sì, infatti tu vai a casa contenta. Sì, molto contenta. Abbiamo dato qualche dritta, le marce da tirare un po' di più. La moto è una moto difficile, non è una moto per tutti. È una moto difficile, ma che quando ci prende un attimo una quadra è davvero divertentissima. Crea tantissime emozioni, è un'esperienza unica. E poi cammina pure. Eh, cammina di brutto. Senti, le tue aspettative per il 2019, che cosa pensi di fare? Eh, a me piacerebbe davvero tanto riuscire a fare questo campionato perché secondo me il Duotempi è proprio la base della moto. Ti insegna a guidare. In quattro tempi in un modo o nell'altro riesci sempre più o meno a gestirlo, il Duotempi no. Quando fai un errore lo ripaghi. In quel giro lì tranquillamente non fai il tempo. È vero, lo perdi. Quindi la lucidità, la concentrazione sono... È importantissimo perché quando sono arrivata subito avevo un pochino di ansia normalmente perché non avevo... avevo usato solo una volta o due tempi e poi soprattutto in una pista grande come questa io non avevo mai girato, però mi sono divertita davvero tanto. Abbiamo fatto due turni di prove libere con 600-1000, quindi abbiamo fatto con categorie miste. Ci sono divertiti davvero molto perché riuscivo ogni tanto a fare qualche curva come facevano i 600 e mi sentivo realizzata. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie mille Crepi. Grazie a te. E magari ti vedremo al campionato, chissà. Speriamo. Ciao.